L'impasto è un po' riduttivo perché oggi abbiamo scritto il primo tempo con questo cambio di giunta importante che vede al centro delle tematiche a me molto care, che sono il diritto al lavoro, il diritto alla casa, le fragilità, la povertà, le persone. Ma poi faremo anche altre iniziative nei prossimi giorni. Io ho consultato tutti in queste settimane, è stato un lavoro difficile, complicato, a tratti anche duro, in qualche momento pure franco, ma mi sento di dire che da un punto di vista amministrativo ma anche politico da qui ai prossimi giorni ne usciamo rafforzati non solo per guidare al meglio, sempre al meglio, la nostra città ma anche a guardare obiettivi politici forti, ampi del futuro, anche elettorali, che possano rafforzare anche la città di Napoli, queste esperienze amministrative e questo laboratorio che ho l'orgoglio e l'onore e l'onere di guidare. I due assessori hanno delle competenze naturalmente specifiche, casa, lavoro per quanto riguarda uno, le politiche di accoglienza, immigrazione e l'altro. Cosa si aspetta dal loro lavoro in questi due anni e mezzo magari che non è stato fatto negli anni passati o non è stato fatto a sufficienza? È stato fatto ma si deve fare di più. È quasi una sfida impossibile, sia ben chiaro, ma a noi piace essere sognatori e visionari perché per come è il Comune di Napoli in condizioni economiche, come è il contesto normativo e finanziario nazionale lanciare una sfida di questa portata sul tema delle fragilità, dell'immigrazione, delle persone deboli, dei migranti, dei rom, dei senza cittadinanza o il tema delle politiche per la casa è come se io non volessi bene a queste due persone che ci affianco. Ma proprio perché so che sono persone oltre competenti, coraggiose e radicate in questa città e che hanno quel cuore e quella passione per lanciare la sfida oltre l'ostacolo, io credo che un'esperienza come quella napoletana, che anche un po' folle, se lo deve porre questo obiettivo, voi non ci riusciremo, fra tre anni tireremo le somme che ci abbiamo, però sicuramente ci avremo provato, a noi non manca la voglia di lottare, già quando hai iniziato a lottare te la stai giocando, a me non piacciono quelli che si arrendono e chiudo dicendo in questi giorni, qualche settimana fa, e lo sapete anche voi, c'era quasi una narrazione consolidata che noi stessimo per fallire, dove l'ordine nero acquisiva una prevalenza sull'ordine bianco, non è una questione di bianco-nero, che sapete che è un colore, diciamo che da quel punto di vista calcistico non è un esempio che si addice, però invece in questi giorni, grazie a tutta la struttura del Comune di Napoli, noi stiamo predisponendo un obiettivo per il bilancio, che ci consente anche di dare risposta ai temi di cui abbiamo trattato e anche altri, molto importante, quindi questa esperienza dimostra che nulla è impossibile e queste due donne che ho vicino a me sono le persone giuste per continuare a lanciare sfide di questo tipo.